Ultimi giorni di campagna elettorale all'Aquila prima del silenzio in attesa del voto di domenica che deciderà il nuovo sindaco del capoluogo. La candidata Simona Volpe di Liber l'Aquila ha incontrato i residenti della popolosa frazione di Paganica. Ottimizzazione energetica, una comunità basata sulla cultura e sulla libertà dalle istituzioni che ostacolano la crescita per i propri interessi, efficientamento dell'economia e circolarità delle risorse. Questi i temi che la Volpe ha rimandato agli Aquilani chiedendo il voto per sé e per la sua lista. Un pubblico ricco ha accolto in centro città, nel cortile dello storico palazzo K. Cappelli, il ministro Dario Franceschini e Roberto Gualtieri, sindaco di Roma ma già ministro ed europarlamentare in sostegno alla candidata Stefania Pezzopane. L'impegno sulla ricostruzione soprattutto culturale da parte di Franceschini, con grande riferimento alle sedi di staccate del Maxi e del Centro Nazionale di Cinematografia ed il sostegno nei tanti anni di battaglie per la sospensione delle tasse post terremoto con Gualtieri, è stato ricordato e sottolineato da Stefania Pezzopane, che ha condotto una campagna elettorale tra le strade porta a porta e nelle piazze di quartiere. Per l'uscente e ricandidato sindaco Pierluigi Biondi è arrivata nel capoluogo la capogruppo di Forza Italia, la senatrice Anna Maria Bernini, che in un ambiente intimo al Palazzetto dei Nobili ha incontrato i candidati della lista di Forza Italia. La coesione del centro-destra aquilano è stato il tema portato sia da Bernini che da Biondi, il quale ha sottolineato la disgregazione locale del centro-sinistra. L'appello all'unità con i big della politica per Biondi continuerà anche nella giornata di oggi e di domani. È ventilato l'arrivo del presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ed attesa una piazza infiammata, con la chiusura della leader di Fratelli d'Italia, Giorgio Ameloni, la sera del 10 maggio. Per il candidato sindaco dell'Aquila, Merico Di Benedetto, ultimi giorni di campagna elettorale tra le frazioni e le periferie. Incontro con gli abitanti del progetto Case di Roio. Al tavolo con Di Benedetto, quasi afono per gli sforzi dell'oratorio in campagna elettorale, giovani donne della sua lista che propongono di lavorare per l'Aquila per superare le tante lacune del quinquennio appena trascorso, che non ha dato alla città la meritata visibilità, dicono. Lavoro a opere strategiche come sottoservizi e un altro passo amministrativo per i giovani. La campagna di Di Benedetto continuerà nelle frazioni a contatto con i cittadini e poi gran finale venerdì 10 in Piazza Duomo con il comizio alle ore 21.